Nel 2016 la Liguria ha ospitato oltre 5.700 richiedenti asilo, il 3% degli immigrati accolti in Italia. Il dato è stato fornito nel corso della presentazione a Genova del dossier statistico Immigrazione 2017. Circa la metà dei richiedenti asilo, 2.400, sono stati accolti in varie strutture genovesi. La maggioranza dei richiedenti asilo provengono da Nigeria, Mali, Gambia e dal Bangladesh. Solo 517 richiedenti sono ospitati in strutture SPAR gestite dai comuni. La maggioranza è in centri di accoglienza straordinaria, approntati dalle prefetture. Questo ha portato all'inserimento di migranti in strutture anche collocate in piccoli comuni, come è avvenuto a Pornassio, dove la popolazione straniera è passata da 34 a 173 persone, o a Borzonasca, che nel 2016 contava 273 stranieri. Su tutto il territorio Ligure nel 2016 la popolazione straniera è aumentata dell'1,5% e la provincia di Genova, con oltre 71.000 residenti, è quella con un'incidenza maggiore. Seguono Imperia, Savona e La Spezia. Si tratta di un'immigrazione giovane, 71% è sotto i 45 anni e femminile 52%. Sono quasi 79.000 i lavoratori in Liguria provenienti dall'estero, principalmente uomini. La maggioranza è impiegata nei servizi o nelle piccole aziende. La comunità albanese rimane quella più numerosa, seguita da quella romena e equatoriana.